buonasera bianconeri il calcio a mercato è ufficialmente chiuso posso tirare un sospiro di sollievo posso rilassarmi un attimo io volevo ringraziarvi perché questa è stata la mia prima estate piena su youtube sapete quanto il calcio mercato mi piaccia mi diverta e quindi ho cercato di tenervi compagnia so che lo fanno anche tanti altri ho cercato di farlo a mio modo non piaccio a tutti lo so e va bene così ho cercato di raccontarvi un po a inizio mercato ovviamente le trattative i pensieri desideri poi strada facendo ci siamo tutti focalizzati su un solo nome che era locatelli tanto da diventare tutti abbastanza noiosi me ne rendo conto però quello c'era di cui parlare e poi da dall'epopea ronaldo insomma nell'ultima settimana abbiamo vissuto delle giornate molto intense e anche delle nottate molto intense un calcio mercato che la juve quindi conclude e io volevo dare il mio voto e volevo chiedere il vostro voto anzi due voti voglio da voi datemi un voto al calcio mercato della juventus di quest'estate e datemi un voto alla rosa cioè se voi leggeste proprio i nomi senza pensare a come metterli in campo i nomi solo per i nomi vi dico i miei io al calcio mercato della juventus do 4 alla rosa do 6 perché do 4 al mercato ve l'ho già spiegato mille volte non voglio essere noioso ma lo riepilogo per tutti i nuovi iscritti che sono veramente molto contento di questo siete sempre di più insomma nuovi iscritti che ho ottenuto nelle ultime settimane sempre di più io penso che con ronaldo in campo avevamo puntato sulla famosa quarta punta che era caio giorgi andando via ronaldo secondo me ci siamo tutti un po sono andati un po tutti nel pallone forse anche nella juve stessa quindi abbiamo chiuso per moise ken a centrocampo e qua arriviamo al punto nevralgico abbiamo fatto soltanto locatelli senza nessuna uscita non è stato possibile come abbiamo detto milioni di volte fare un'entrata a un certo punto sembrava quasi per disperazione più che altro possibile l'arrivo di pianic o di qualcun altro nonostante non fosse ancora uscito nessun centrocampista non è andata così la juve ha preso le sue decisioni io sono già stato polemico polemico ma spero costruttivo perché amo la juve ne parlo tutti i giorni sul mio canale ne parlo tutti i giorni su twitter ne parlo tutti i giorni con i miei amici quindi al di là della mia famiglia del mio lavoro e della musica che è un altro hobby che ho molto grande la juve riempie le mie giornate quindi quando evidenzio delle critiche quando parlo di cose che non vanno e magari anche a volte addirittura mi arrabbio per le cose che non vanno è tutto amore è come quando hai uno zio che sperpera tutti i soldi al casino tu lo prendi lo sbatti contro il muro lo prendi a schiaffi per cercare di togliergli il vizio per cercare di farlo rinsavire proprio perché lo ami ignorarlo significherebbe non amarlo questa è una metafora che volevo farvi no quando si critica la juve sempre se non si sfocia nel negli insulti gratuiti costanti che dopo diventano inutili esagerati ma quando si critica e si cercano di tirare fuori delle problematiche è per amore della juventus quattro al mercato perché perché non abbiamo fatto minimamente nulla sul fronte del terzino sinistro che per me era un punto nevralgico deficitario negli ultimi anni non abbiamo fatto nulla per potenziare in maniera evidente il nostro centrocampo che è sicuramente il nostro tallone d'achille da almeno tre stagioni e purtroppo in attacco con la defezione di cristiano ronaldo tirando le somme e guardando la rosa dell'anno scorso e la rosa di quest'anno pensando abbiamo anche dato via demiral e abbiamo un rugani che io ovviamente considero un terzo di demiral come bravura ecco tutto un insieme di cose per quanto mi riguarda la juventus si è ufficialmente ridimensionata e la rosa di quest'anno è peggio di quella dell'anno scorso questo è il mio pensiero e per questo che io do quattro so benissimo ne abbiamo parlato tante volte che le finanze sono quelle che sono la situazione economica è quella che è però sono anche convinto che si potevano fare delle operazioni intelligenti per esempio vi commento proprio l'ultima cosa che ho letto prima di collegarmi qui con voi saul nighez saul centrocampista storico dell'atletico madrid va in prestito al chelsea per 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 35 saul io personalmente lo considero uno tra i migliori 20 25 centrocampisti che giocano in europa questa questa è una delle tantissime cose che la juve o non vede o non è in grado di vedere certo l'ingaggio c'è il nodo ingaggio molti di voi mi diranno non lo so quanto guadagnerà saul magari era completamente fuori della nostra portata però è solo un esempio per dirvi che secondo me noi ci siamo fossilizzati su pianis forse witzel icardi icardi sarebbe stata un manna dal cielo sarei stato contentissimo però ragazzi non lo so ho visto una juve ferma ho visto una juve senza idee ho visto una juve spiazzatissima dall'addio di cristiano ronaldo cosa che mi ha veramente lasciato basito perché lo sapevamo tutti che c'era la grande possibilità che ronaldo lasciasse il club quest'estate e quindi non abbiamo non ci siamo preparati prima forse forse speravamo che ronaldo stesse con noi l'ultimo anno o forse no perché comunque risparmiamo un sacco di ingaggio però fatto sta che nel 2022 come dico da settimane se mi seguite il vero mercato della juve sarà nel 2022 quando finiranno alcuni contratti andranno a scadenza e soprattutto quando sarà operativo l'aumento di capitale erogato fra qualche mese ho dato quattro quindi al mercato alla rosa do sei che vuol dire è sufficiente che vuol dire comunque anche se ci siamo indeboliti secondo me rispetto all'anno scorso è una juve da sei è una juve che può dire la sua a questo punto però ci dobbiamo rimettere nelle mani di massimiliano allegri perché quello che abbiamo visto finora ci ha fatto letteralmente schifo in tutti i sensi quindi dobbiamo assolutamente risalire la china non possiamo pensare che col napoli e col milan dopo la sosta faremo l'an plane se succede festeggeremo tutti ecco perché volevo aggiungere un'ultima cosa prima di salutarvi e darvi la buonanotte perché è stata una lunga giornata questo è il terzo video di giornata anzi se non avete visto i precedenti vi invito ad andarle a vedere io tifo juve e quindi è giusto che chi ogni tanto viene sotto qui a dirmi e ma siete sempre negativi e ma basta e ma non mi sento coinvolto in queste critiche perché tifo juve da da 40 anni da quando ero appena nato quindi non io mi sento in diritto da tifoso e poi ho deciso di aprire questo spazio aperto pubblico con voi per dire la mia c'è chi piace chi no ripeto va bene lo stesso io critico quando ci sono le cose che non vanno perché spero che la nostra squadra diventi un devasto mondiale io in questo lungo ciclo di nove anni e poi interrotto insomma con compirlo ho sempre sperato di riuscire a conquistare la champions di riuscire a vedere una squadra migliore sempre di più anno dopo anno purtroppo non è stato così ho visto soltanto peggioramenti e questa cosa da tifoso mi rattrista molto perché purtroppo l'impressione mia è che sarà una stagione molto difficile questa molto difficile se succede un miracolo sportivo che allegri riesce a fare una cavalcata e a portarci alla vittoria ovviamente io sarò il primo della fila a festeggiare perché è quello che io mi auguro perché la juve la tifo la tiferò sempre e guarderò sempre le partite tifando i giocatori e non augurando il male a nessuno ci sono certamente i giocatori che io non reputo degni della juventus e questo però è un mio pensiero che ogni tanto condivido con voi insomma il mercato della juve finisce qui è stata una lunga estate io vi ringrazio ancora per avermi tenuto compagnia nei miei video del calciomercato nelle mie live che ne ho fatte tante riprenderò a farne sicuramente ancora prossimamente anzi a breve e adesso ovviamente per fare una live bisogna anche avere gli argomenti altrimenti è soltanto sono chiacchiere al vento e quindi oggi per esempio ho deciso di non farla una live non avevo molto da dire gli argomenti erano pochi e non voglio farvi perdere tempo voglio essere il più breve possibile anche se i miei video ormai si aggirano intorno ai 10 minuti mi rendo conto che non è poco però fate finta che sia un messaggio vocale del classico amico rompiballe che vi manda un vocale da 10 minuti no come dice tommaso paradiso nella sua canzone grazie ancora ragazzi grazie ancora io ho messo in copertina chiesa e di bala perché perché alla fine sono loro i nostri due campioni questi sono questi abbiamo ben venga perché ad avercene di campioni come chiesa e di bala siamo nelle loro mani e io vi saluto con una promessa dato che da domani mattina si inizierà a parlare tutti e vi avviso del rinnovo di di bala che ancora non c'è stato io vi prometto che non ve lo trasmetterò come una telenovela perché so che siete tutti stanchi di continuare a leggere notizie cose che vengono rimandate di settimana in settimana basta non ne possiamo più quindi io vi parlerò del rinnovo di di bala ma solo quando avrò delle notizie delle date certe delle notizie certe non ve ne parlerò tanto per parlarvene tutti i giorni abbiamo bisogno di concretezza abbiamo bisogno di cose fatte e finite basta parole al vento questo è il mio obiettivo per questa nuova stagione spero che apprezziate forza juve sempre comunque i giocatori che abbiamo dobbiamo continuare a tifarli devono tirar fuori tutti gli attributi possibili immaginabili devono dimostrare devono dimostrare di essere forti e non ogni tanto come vengono descritti delle pippe sta a loro sta ai calciatori noi possiamo solo tifare ma sta ai calciatori prendersi mano la juve la nostra juve e darci delle soddisfazioni quindi da adesso fine mercato basta pensare al mercato come è andata andata tifiamo tutti uniamoci tutti per un solo obiettivo cercare di vincere il più possibile in questa stagione non ci sono altri pensieri ciao ragazzi buonanotte e sempre forza juve ciao ciao ciao